Parliamo di Indiana Jones e il quadrante del destino, The Dial of Destiny, dipende dalla traduzione. Finalmente ho visto il film, lo attendevo tantissimo, aspettavo però di diplomarmi, infatti il 30 giugno finalmente sono uscito da quella scuola per l'ultima volta. E il 1 aprile sono... il 1 aprile, ciao! Il 1 luglio sono andato in sala, sia per Indiana Jones che per Elemental. Io attendevo appunto il film tantissimo perché in realtà non sono mai stato un grandissimo fan di Indiana Jones, almeno la parte cinematografica. però il personaggio ha fatto in qualche modo parte della mia infanzia per un dettaglio e un elemento ben preciso che c'è anche nella miniatura di questo video. Questo qui, il gioco Lego per Nintendo DS. Qui c'è scritto sì Indiana Jones 2 ma se notate in realtà... qui in realtà c'è il teschio di cristallo, qui c'è Matt... no qui è Matt. Nonostante sia appunto Indiana Jones 2 il gioco e Indiana Jones 4 il regno del teschio di cristallo. E questo è anche uno dei motivi per cui a me quel film non dispiace, anzi... è parte appunto della mia infanzia. Questo è il primo film di Indiana Jones che vedo in sala per un motivo ben specifico. Il film, il quarto film, quello antecedente a questo, è uscito nel 2008, io avevo 4 anni, quindi immaginate gli altri. Avendolo visto solamente dopo qualche giorno dall'uscita, ho avuto modo di informarmi un po' sui vari pareri e ne ho visti alcuni veramente positivi, altri veramente negativi. Io per questa volta mi trovo un po' a metà. Prima di iniziare però vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti, tra i miei social, Instagram, TikTok, Twitter, Letterboxd e anche il link di Pampling, dove in questo periodo ci sono gli sconti estivi. Più di 100 t-shirt a soli 9,90€. Affrettatevi se volete qualche design, ne state vedendo adesso qualcuno sullo schermo e sono magnifici. Adesso però parliamo del film. Per quanto mi riguarda, nonostante il regista di questo film non sia Spielberg, la regia è abbastanza Spielbergiana. Si vede proprio che sia nei movimenti di macchina e anche nella fotografia in realtà del film, Mangold, che è appunto il regista di questo quinto capitolo, nonché il regista di Logan, ha voluto omaggiare quello che è stato Spielberg nei quattro film principali. Nonostante nel quarto per alcuni non si veda così tanto la mano di Spielberg, probabilmente Spielberg si vede più in questo quinto capitolo che nel quarto che aveva diretto. Però sotto il punto di vista tecnico, regia e fotografia, sembra a tutti gli effetti un film di Indiana Jones come ai tempi. Ovviamente con una grana differente, non stiamo parlando di un film degli anni 80, ma nemmeno di uno del 2000, di inizio anni 2000, che è già diverso da uno del 2020-2023. La storia non è assolutamente perfetta, per quanto mi riguarda ci sono tantissimi problemi, anche i personaggi sono una parte di questi problemi, molti personaggi, non tutti, ma dei personaggi ne parleremo uno a uno fra poco. Sicuramente la cosa interessante qui è proprio il manufatto che Indy e Company devono recuperare, devono, appunto, il manufatto che sta al centro della storia. Quello è interessante, è interessante anche il motivo per cui lo vogliono, perché lo vuole il cattivo. Questo mi è piaciuto. Mi è piaciuto anche più o meno il finale, se posso dire, anche se avrei preferito qualcosa di un po' diverso, però ne parliamo più tardi. Come detto, appunto, parliamo un po' dei personaggi. Oggi intanto iniziamo da Indiana Jones, Henry, il dottore Henry Jones, che qui è più stanco, ovviamente, perché Harrison Ford ha 80 anni. Non credo che Indiana Jones abbia lo stesso 80 anni come l'attore, probabile, però non lo so, non è stata detta un'età ufficiale, però si vede che è abbastanza invecchiato e stanco, almeno all'inizio. Poi diventa di nuovo l'Indiana Jones di 40 anni fa, quindi muove tutto quello che vuole senza problemi. Ogni tanto torna a dire che gli fa male il ginocchio, ma basta, poi continua a fare l'Indiana Jones che è sempre stato. È un po' una cosa che non mi ha convinto al 100%, perché avrei voluto vedere un Indiana Jones più stanco che non ha la possibilità di fare certe cose che faceva in passato, invece ci siamo ritrovati lo stesso personaggio di 30 anni, 40 anni fa. Harrison Ford, però, mi fa piacere che si sia divertito, perché si vede, si è divertito a interpretare per l'ultima volta Indiana Jones. In teoria dovrebbe essere l'ultima, non credo che ci sarà un sesto capitolo, anche perché forse sfortunatamente sarà un flop, però Ford dall'alto dei suoi 80 anni e dal fatto che non voglia assolutamente ritirarsi dalla recitazione, si vede il suo divertimento. Il personaggio di Elena, interpretato da Phoebe Waller-Bridge, per quanto mi riguarda è un quasi no. Non dico un no totale perché il personaggio ha il suo perché in qualche modo, però è un po' una Mary Sue. Che cos'è una Mary Sue? È quel tipo di personaggio, può essere anche un maschio nonostante il nome sembri... ed è appunto una roba solo al femminile. La Mary Sue è quel tipo di personaggio che non ne sbaglia uno, è sempre perfetto, non ha nessun problema. E la Elena di Phoebe Waller-Bridge è un po' così, nonostante i suoi difetti, la fanno sembrare comunque migliore di Indiana Jones. Ed è una cosa abbastanza insopportabile in un film vedere un personaggio perfetto che non sbaglia mai. Speriamo non sia così la sua prossima Lara Croft perché lei sarà la protagonista di una serie su Tomb Raider. Davvero, speriamo non si concentrino su questo tipo di personaggio, una Mary Sue anche per quel personaggio. Waller, il villain, interpretato da Mads Mikkelsen, è un po' macchiettistico, in realtà come tutti i villain della saga di Indiana Jones. Fa il suo perché il suo obiettivo è l'unico, prendere quel manofatto per fare una certa cosa. E quella cosa che deve fare mi ha interessato perché è inaspettata. Anche se ti danno qualche indizio più o meno quella fin dall'inizio del film. E lo accompagnano questi scagnozzi un po' scialbi. Sì, antipatici tantissimo, infatti li vuoi vedere morti subito. Però sono i tipici scagnozzo numero uno, scagnozzo numero due, nonostante abbiano i nomi e si sanno. C'è ovviamente quello grosso e stupido, appunto lo stereotipo dello scagnozzo grosso e stupido. E poi c'è quello più che passa alla violenza non fisica ma violenza a distanza, pistole, robe varie. Molto più antipatico. Se non sbaglio è lo stesso attore che ha interpretato il villain di... uno dei villain di Logan, Wolverine di Logan. E anche lì più o meno aveva questo ruolo, diciamo. Anche se in quel caso era un po' più interessante come contrasto con il personaggio protagonista. Perché appunto in questo caso è più uno scagnozzo che villain. Parlando invece di Teddy, questo bambino, ragazzino, che dovrebbe essere un po' lo shorty dell'occasione, è un no. Diciamo che veramente non ha il minimo di caratterizzazione. Semplicemente lì, quel bambino lì che ruba, fa cose, avrebbero potuto tranquillamente trattarlo meglio. Soprattutto renderlo più carismatico. Perché magari, non lo so, il film l'ho visto in italiano, quindi non saprei dirvi l'interpretazione al 100% dell'attore. Però non mi ha dato chissà che grande impatto. Stessa cosa anche il personaggio di Antonio Banderas, che è lì, appunto. Non è chissà che grande personaggio. Poi ci sono diverse comparse dal passato. Sia vere comparse dal passato come Salla e comparse dal passato, quant'esse in queste frasi, di un passato fittizio, nuovo, una retcon, come appunto Elena e il padre che è Basil. Basil, questo ornitologo, comunque archeologo, che ha molto a che fare con questo quadrante del destino, il quadrante di Archimede. Come si sa ormai da tempo, i primi 20 minuti del film sono nel passato, sono nel 44, se non sbaglio, ambientati nel 44, e Harrison Ford e Mads Mikkelsen sono ringiovaniti con la CGI. Perché appunto, ovviamente, devono interpretare gli stessi personaggi, ma di qualche anno prima, di 20 anni più o meno prima, 25 anni prima. E devo dire che appena si è visto l'Indiana Jones del 44, quando viene levato quel cappuccio al personaggio, cosa che si vede anche nel trailer, ho notato una differenza abissale tra il trailer e appunto quello che si è visto poi nel film. Solo in quella scena, però, perché poi diventa una brutta CGI, deepfake, da quella scena in poi. Hanno provato un po' ad aggiustare il tutto con il buio, perché il buio aiuta sicuramente la CGI, però si nota molte volte che fa abbastanza cagà. In Mads Mikkelsen forse un po' meglio, perché comunque sicuramente non ha la stessa età di Harrison Ford, magari si poteva lavorare meglio sul volto ringiovanendolo, anche perché non so quanti anni abbia Mads Mikkelsen, ma a livello di fattezze, di volto, non è invecchiatissimo, quindi lo hanno ringiovanito di poco. Per dire, non è sicuramente un ottantenne come Harrison Ford. Anche nei primi venti minuti ci sono scene d'azione, si sente la soundtrack di Indiana Jones, che mi mette sempre questo hype enorme per il film, per il personaggio, quindi a posto. E poi si passa al presente, si passa al presente per dire, perché comunque il 69 è lo stesso... nello stesso giorno e nello stesso periodo comunque dell'allunaggio, e lì ho trovato il mangled che volevo, perché anche se è molto meno violenta, la prima scena nel 69 mi ha ricordato tanto la prima scena di Logan, in cui si vede per la prima volta il Wolverine del presente, il nuovo Wolverine, diciamo così, che non si era mai visto fino ad allora. Anche qui vediamo le conseguenze degli altri film, scopriamo cosa è successo al personaggio dopo tanti anni, e mi è piaciuto, mi è piaciuto vedere questo Indiana Jones stanco, come ho detto prima, anche se poi diventa di nuovo l'Indiana Jones del passato, anche per tutto ciò che lo circonda, la scuola, i personaggi che incontriamo, veniamo a conoscenza appunto dell'altro personaggio, di Elena, che poi scopriamo essere un altro tipo di personaggio. E magari mi ha dato un po' l'impressione di Logan, proprio dal fatto che non ci sono fin da subito, tralasciando i 20 minuti iniziali, scene d'azione con questo personaggio invecchiato. Ci sono molte scene discorsive all'inizio di Indiana Jones, tralasciando i 20 minuti. E forse questa è una cosa che non hanno apprezzato in tanti, perché si dilungano tanto, e poi si dilungheranno anche in diverse scene d'azione, infatti è una cosa che non ho apprezzato, però magari qualcuno voleva fin da subito l'azione anche nel presente. Dico sempre presente, perché comunque mi capite in qualche modo, è presente, ma è il 69. A proposito di scene d'azione, credo che ci siano tante morti in questo film, come in tutta la saga di Indiana Jones. È un po' strano vedere questo tipo di morti in un film della Disney, perché all'inizio è comparso il logo Disney 100, quindi è proprio Disney al 100%. Il 100 ovviamente non è lì perché Disney è al 100%, ma per il centenario. Però ci sono tante morti, sfortunatamente molto meno fantasiose di quelle che si sono viste nella saga. Sono morti più standard, colpi di pistola, tizi che sbattono e muoiono, però non ci si concentra molto su quelle morti cruente e divertenti che si vedevano negli altri film. Ci sono botte a livello slapstick, quindi un po' di Indiana Jones del passato si sente anche in quel caso, però appunto mi manca quelle, magari le formiche, lo scioglimento, queste robe. Che ovviamente magari, non lo so, Disney non ha approvato, non saprei cosa dire. La comicità di Indy però c'è, e si sente. Fin da subito nel presente, fin da quando compare per la prima volta nel 69 l'Antichitera, ovvero il quadrante del destino, il quadrante di Archimede, provavo, ho provato ad anticipare qualche colpo di scena perché ci danno qualche indizio abbastanza palese, secondo me, magari non... effettivamente è una cosa che non ho apprezzato al 100% perché anticipano forse fin da subito cosa... qual è l'obiettivo di alcuni personaggi e come potrebbe andare a finire il film, anche se mi aspettavo tutta altra cosa in realtà. Cercando di anticipare però qualcosina lo ha azzeccata. Come ho detto prima, alcune scene si dilungano un po' troppo e per lo più sono le scene di inseguimento. Ci sono diversi inseguimenti, fin da quello della parata con il cavallo e... quello dura poco comunque. Però poi ce n'è uno in Marocco, una scena in acqua, comunque ci sono tante scene che si prolungano sotto il punto di vista d'azione e di tensione. In alcuni casi è una cosa ok, non dico buona, ok. In altri casi forse avrei asciugato un po' il tutto perché il film dura due ore e ventiquattro minuti, ventidue minuti e si sente un po' la durata arrivata ad un certo punto e soprattutto da alcune scene. Mentre da siciliano avrei voluto che aggiungessero più scene e allungassero una certa parte del film. Ne parlo magari nella parte con spoiler perché sono... magari potrebbe essere appunto spoiler. Il film presenta in un certo senso due finali, non completamente perché il finale è solo uno però ad un certo punto mi stavo... stavo pensando ok, il film finisce qui e quindi quello sembrava a tutti gli effetti un finale e direi che in realtà non mi sarebbe nemmeno dispiaciuto. Però anche come si è concluso realmente il film, ok, cioè non... non ci sono problemi. Mi è piaciuto come finale anche per una scena che mi ha fatto commuovere e io non sono neanche un grandissimo fan della saga cinematografica di Indiana Jones, quindi pensate. Non mi è piaciuto solo il modo in cui hanno collegato appunto questi due finali. Il finale, ripeto, è uno però come il modo in cui si sono legati da una scena all'altra. Quindi generalmente a me Indiana Jones 5 o The Dial of Destiny o Il Quadrante del Destino mi è piaciuto. Tralasciando che in realtà, non so, magari è un lapsus mio, un qualche problema, un effetto Mandela solo mio, non di tutti ma io ricordavo che il film si chiamasse ad un certo punto La Ruota del Destino. Fatemi sapere con un commento qui sotto se è un problema mio o effettivamente ad un certo punto il film ha cambiato titolo dalla Ruota del Destino al Quadrante del Destino. Comunque stavo dicendo, il film mi è piaciuto. Mi è piaciuto anche tanto in realtà perché comunque tralasciando i personaggi un po' quelli nuovi e qualche idea sul finale che poteva essere anche trattata meglio sicuramente lo trovo una buona conclusione per il personaggio più che per la saga. Ma ragazzi, se ancora non avete visto il film, vi informo che gli spoiler inizieranno fra poco come sempre vi ricordo ancora una volta che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social e i link di Pampling, codice ilpensiero4 per avere un paio di calze gratis e supportare il mio lavoro. E niente, se ancora dovete vedere Indiana Jones e Il Quadrante del Destino vi invito a lasciare questo video perché gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1. Direi di iniziare dalla scena del passato, quella ambientata nel 44. Ripeto, l'effetto di ringiovanimento sui personaggi di Indiana Jones e su Waller non è chissà che grande. In realtà su Waller comunque sì perché appunto, ripeto, Mads Mikkelsen non è vecchissimo. Però per quanto riguarda proprio questo personaggio ad un certo punto sul treno viene colpito a una velocità molto elevata da questo lampione, comunque qualcosa che lo fa cadere giù. Ok, è una cosa che nella realtà avrebbe ucciso una persona sicuramente ma stiamo parlando ovviamente di un film. Tuttavia avrei comunque preferito nel futuro, nel presente un qualche segno di questa cosa. Invece è tranquillo in faccia, non ha nessun problema né una cicatrice né qualcosa che dà di ricordo che ricorda appunto quella fortissima botta. Tralasciando questo però nei primi 20 minuti ci sono alcune scene di tensione davvero interessanti come per esempio quella dell'impiccato lì mi è piaciuta e mi ha ricordato molto i predatori dell'arca perduta, quindi apposto mi è piaciuta molto quella scena dell'impiccagione di Indiana Jones ma anche quella sul treno in realtà è interessante. Lì in questi 20 minuti ci viene presentato per la prima volta il quadrante del destino non ci viene detto cosa fa, non ci viene detto che è un modo per viaggiare nel tempo comunque trovare i varchi temporali e robe varie ovviamente direi anche se già iniziano gli indizi è elemento che si sentirà più forte nel 69 inizieranno a dare sempre di più indizi che ti fanno dire ok questo serve a viaggiare nel tempo serve a andare nel passato, fare robe Archimede fa loop, robe varie però appunto non vanno nello specifico fino a quasi fine film quando appunto si trova la tomba il sepolcro di Archimede nell'orecchio di Dioniso. Come ho detto prima ci sono alcune scene molto prolungate come per esempio l'inseguimento in Marocco quella è molto lunga e anche abbastanza noiosetta arrivata a un certo punto stessa cosa anche quella in acqua nel momento in cui ci viene presentato il personaggio di Banderas personaggio abbastanza inutile che muore dopo qualche minuto di screen time e non ha lasciato assolutamente nulla al film se non quella scena lì su subacqua anche diretta malino direi perché ci sono alcuni momenti un po' confusionari devo dire però la scena che segue appunto questa qua delle anguille del ritrovamento della mappa mi è piaciuta quindi appunto il codice Elena che Elena, Elena che cerca di decifrare questo codice dicendo letteralmente quello che c'è scritto e quindi non è realmente la stessa risposta successivamente a questa scena abbiamo la vera scoperta quindi la vera mappa e i nostri eroi si dirigono a Siracusa con la solita grafica del viaggio in mappa e da siciliano, da palermitano proprio la cosa che mi ha fatto davvero ridere è che la mappa va a Siracusa con la linea tracciata prima inquadratura Duomo di Cefalù che non è ovviamente a Siracusa per chi non conosce i posti anzi Cefalù è letteralmente uno dei luoghi che visito di più da anni e devo dire che è stato abbastanza emozionante vedere diverse strade che ho riconosciuto quasi tutte le strade sono le strade in città sono riprese da Cefalù e devo dire che è abbastanza bello la cosa che fa ridere che però non tutte le scene sono registrate a Cefalù perché appunto l'ambientazione non è neanche Cefalù bensì Siracusa e se già faceva in qualche modo strano vedere in Fast X i personaggi che vedevano davanti il Colosseo giravano ed erano a Torino qui fa ancora più strano vedere strade che conosci e poi ritrovarsi a Segesta o direttamente a Siracusa per l'orecchio di Dioniso però fa veramente ridere la mappa con il tragitto Siracusa duomo di Cefalù ok ci sono alcuni stereotipi in quelle scene in Italia in Sicilia l'uomo con la coppola il gelato però vabbè siamo comunque negli anni 60 in qualche modo è il concetto di Italia che ancora hanno gli americani di noi ma lì ha senso che siamo negli anni 60 quindi ci può stare non li vedo così pesanti come stereotipi anche se in realtà nemmeno per Luca mi sono offeso io non mi offendo mai per gli stereotipi italiani perché mi fa abbastanza ridere ma qui più che mai anche in Luca in realtà perché anche Luca è nel passato in qualche modo ci può stare quando poi si arriva al colpo di scena appunto all'interno dell'orecchio di Dioniso la scena con gli insetti mi ha smosso dentro e io non sono uno che ha paura degli insetti ma con Indiana Jones succede questo e non saprei come si scopre appunto che Archimede era un viaggiatore nel tempo almeno questo è quello che all'inizio credono i personaggi perché vedono la Fenice con le eliche quindi un elemento che non c'era nell'Avanti Cristo e poi all'interno della barra c'era un orologio da polso tra l'altro quindi molto lontano dall'era di Archimede i personaggi credono che appunto Archimede viaggiasse nel tempo non è così scopriremo poi quando appunto tutti arrivano nel nel periodo dell'attacco a Siracusa quindi nel 400 A.C. adesso non ricordo esattamente la data io in storia non sono bravissimo comunque quando arrivano lì scopriamo che in realtà il suo è semplicemente un loop non Archimede non viaggia nel tempo è semplicemente il quadrante del destino che dà la possibilità di Indy di tornare indietro per essere creato in pratica cerco di spiegarlo al meglio l'Antichitera il quadrante del destino il quadrante di Archimede è un'entità a parte diciamo che ha bisogno di essere creata quindi agisce nel presente nel 69 per far tornare indietro Indy i nazisti Elena per far capire ad Archimede come finire lo stesso quadrante del destino per poi fare appunto un loop continuo la cosa interessante di questo finale oltre vabbè alla morte dei cattivi che avrei preferito più violenta più perché sono di personaggi insopportabili quindi scritti bene in qualche modo perché devono essere insopportabili quindi ci sta però avrei preferito una morte più su schermo perché semplicemente si vanno a schiantare con gli aerei visti come draghi dai romani e dai siciliani di quel momento però devo ammettere che avrei preferito di più se lui fosse restato realmente nel passato perché effettivamente non ha più nulla da perdere nel presente nel 69 è stato lasciato da Marion comunque è in atto il divorzio il figlio è morto e devo ammettere che quella scena di rivelazione che Matt si è arruolato per fargli un dispetto morendo in guerra mi ha toccato perché io al personaggio comunque sono in qualche modo affezionato essendo nonostante un personaggio del quarto ma ripeto il quarto per me è un film dell'infanzia e poi questo appunto ha portato al litigio tra lui e Marion comunque appunto Indy non ha nulla da perdere nel presente se non appunto adesso Elena e Teddy però vabbè tuttavia il film finisce con un happy ending per Indy quindi lui torna nel presente non so come Elena riesce a far tornare Marion che ricrea a parte invertite la scena dei predatori dell'arca perduta dove ti fa male qui qui e qui quella scena mi è piaciuta molto vedevo gente con le lacrime agli occhi quindi ci sta e poi c'è infine questa inquadratura sul cappello che è con l'occhio di bue che si chiude che fa un po' film degli anni 80 Indiana Jones appunto però alla fine Indy prende il cappello per andare non credo in avventura ma andare ufficialmente in pensione anche come Indiana Jones ragazzi ripeto che a me questo film è piaciuto ci sono tantissimi problemi tantissime cose che diciamo non mi hanno convinto al 100% però gli ridare un'occhiata sicuramente la durata è un problema perché sarebbe potuto durare molto di meno un'ora e 50 due ore se proprio vogliamo sforare ci sono diverse scene che potevano tranquillamente asciugare ritagliare e eliminare completamente magari allungare un po' di scene a Cefalù che era comunque Siracusa ripeto la gente che passa e parla in dialetto mi ha fatto scassare dalle risate questo devo dirlo ma ragazzi vi ricordo ancora una volta che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social e il link di Pampling codice ilpensiero4 per avere un paio di calze gratis e supportare il mio lavoro fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commento qui sotto di questo film se volete fare spoiler mi raccomando contrassegnate il vostro commento con la dicitura spoiler per non rovinare il film che ancora non l'ha visto e niente io sono Andri questo è stato un altro mio pensiero per voi noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale Andri passa e chiude ciao